L'obiettivo rientra in sicurezza ma non solo perché non è tanto il discorso legato alla malattia nei ragazzi è proprio fermare la circolazione del virus in un bacino in cui questa circolazione è più forte perché ci sono momenti di aggregazione di affettività, di socialità che sicuramente nei ragazzi è più forte. Da lunedì 16 agosto così la fascia d'età 12-18 potrà vaccinarsi anche senza prenotazione. Questo quanto indicato dal generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza in una lettera inviata alle regioni e alle province autonome per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani in previsione della riapertura delle scuole. La regione toscana con una lettera proprio dell'assessore Bezzini vuole che questa vaccinazione abbia un canale preferenziale quindi un accesso libero senza prenotazioni e ci sta in qualche modo sollecitando a dare un'organizzazione di accoglienza quindi con personale dedicato e con modulistica già che c'è giunta in questi giorni e naturalmente con un numero di dosi che sia in grado di garantire questa pressione. Da lunedì prossimo dunque i giovani tra i 12 e i 18 anni potranno recarsi senza prenotazione negli hub di riferimento territoriale per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino. In questo caso ad Arezzo la sede del centro affari potrebbe essere l'unica sede di tutta la zona distretta a retina Casentino Valtiberina in modo tale da avere anche una visibilità e una concentrazione di questi ragazzi che arrivano con questo flusso per dare appunto questa unica unicità diciamo di questo canale che si vuole. La seconda dose poi potrebbe essere effettuata a distanza di 21 giorni dalla prima con l'obiettivo di accelerare il più possibile i tempi di copertura vaccinale. Sappiamo che scientificamente il richiamo si può fare anche dopo tre settimane anche se tutti conosciamo alcune difformità su questo a cui sono seguite delle circolari regionali cioè per le popolazioni più anziane, più adulte abbiamo fatto anche fino a 42 giorni ma siccome noi ci dobbiamo preparare all'evento scolastico allora possiamo anche anticipare questa seconda dose a 21 giorni. Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo dei sieri Pfizer o Moderna. Per quanto riguarda la provincia retina sono attualmente 6.668 i ragazzi e le ragazze in questa fascia d'età ad aver avviato il procedimento di immunizzazione ricevendo la prima dose del siero, 3.129 invece coloro che lo hanno già completato.